bene trovati amici ma soprattutto amiche dello spalino punto com puntata numero 20 caro leo scuola la spalla è tornata la vittoria ha fatto una goleada una punta ha fatto due gol grazie a tutti buonanotte non c'è niente di cui parlare no non è vero ciao leo napoletti a raffreddore non fa la diretta infatti siamo rimasti senza martina le auguriamo pronta guarigione dal suo raffreddore cose che capitano in questa stagione subito il primo commento di budo si torna a essere duri penso ci sia gente che non ha mai smesso di esserlo poi non lo so non conosco le abitudini vogliamo fare una diretta così allegra stasera e dopo senza vittoria stasera dobbiamo non che le altre dirette in realtà abbiamo fatto diciamo che di mercoledì è stato un po lugubre parlato veramente di un po catastrofisti comunque saluto tutti ciao mauro ciao claudia ciao alessandro ciao edo che scrive stasera tutti felici e contenti per fortuna massimo andrea sartini c'è video in nazionale aspettiamo per gli spareggi mattia bondanelli ciao pratizia sole ciao stefano beh stasera non credo avremo l'audience dei tempi recenti perché in genere quando ci sono buone notizie c'è meno attenzione mediatica insomma lo vediamo anche dalle pagelle dai vari contenuti sono molto meno commentati perché è più bello commentare quando le cose vanno male allora che uno può dire no va bene dai c'è anche c'è anche un discorso che no va che poi quando le cose vanno male le persone cercano risposte o punti di vista insomma qui ci sta quando vinci e stra vinci tanto ciao sarà ciao massimo ciao matteo ciao beatrice quando vinci non c'è anche da spiegare hai vinto e sei stato bravo però leo finalmente tre punti mancavano da addirittura cinque mesi in casa quasi una stagione intera e in effetti eravamo in mezze maniche quando la spalla ha fatto tre punti contro in vicenza mentre quando l'ultima volta aveva vinto la spalla era il 4 dicembre non abbiamo ancora iniziato a comprare i regali di legale probabilmente io si avevo iniziato perché io entro l'8 dicembre ero posto con i regali comunque è ansia per quello oggi super dice intanto ciao marisa francesca edo dice oggi super sconti le magliette dei giocatori che hanno fatto gol marketing a livelli altissimi beh è una cosa che si vede ci sta insomma non so quanti ne abbiano vendute però è una bella idea insomma se qualcuno oggi era carico duro vuole andare a comparsi la maglia di video perché no è una buona idea sì anche perché a livello di marketing anche per la stessa missione di tocobina la spalla deve crescere molto quindi sicuramente questa è un'ottima alternativa se parliamo di vicari boni parliamo anche di vicari dopo ma non è un problema aggiungo una cosa su questa cosa del marketing una roba che fanno spesso soprattutto le squadre americane in nba ma anche nelle altre leghe sai qual è leo che se allo stadio si presenta qualcuno con una maglia vecchia tipo che ne so tu vieni allo stadio con la maglia di lazzari ma a volte fanno le promozioni del tipo porta indietro la maglia di lazzari e noi ti facciamo il 50 su quella nuova no una roba così di solito la fanno quando i giocatori si sono lasciati male con una squadra non è caso di la odio insomma diciamo che le opinioni sull'azari sono un po' contrastate se qualcuno volesse portare indietro la maglia di borriello esatto esatto hai una maglia di borriello di pacco nateo lasciala giù te ne liberiamo e ti diamo il 50 per esempio borriello che è stato ricordato anche da francesco colombarini nell'ultima diretta è ancora una ferita decisamente per chi lo ha dovuto pagare non mi sorprende che sia una ferita ancora aperta allora però è bello una volta trovarsi a parlare di cose belle alla grande beatrice noi vorremmo parlare sempre di cose belle se avessimo fatto queste dirette qua nell'anno della promozione in serie a figurati avremmo parlato solo di cose belle mauro ci segnala che ci sono già le tre retrocesse non ha tutti i torti perché ho visto prima leo non so se hai notato che cosenza crotone o crotone non mi ricordo più crotone cosenza è finita 3 a 3 col novantaduesimo del crotone quindi adesso la spalla è a più 12 sul crotone e sul vicenza insomma più 7 sul cosenza non è non è una brutta non è una brutta posizione no no infatti la partita tra l'altro stavo anche guardando e fortunatamente per la spalla è finita così perché c'è anche il discorso dei punti sulla distanza tra la quarta e la quinta nel caso non si potrebbero giocare i play out cosa che per quanto la vittoria della spalla ieri abbiamo portato ossigeno comunque la spalla non è fuori dal bosco leo oggi leggevo qualche commento di persone che scrivono eh sì però in 10 minuti per un quarto d'ora la spalla ha fatto veramente pietà allora isoliamo questo tema intanto saluto sandro pazetti che scrive giù le mani da pa e intanto ciao anche a max vignudini sa quante maglie di palconate sono state vendute io vorrei una 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 ce l'ha martina poletti una ce l'ha la polli ogni tanto la mette ancora allo stadio però vediamo quante maglie di di pabai o di abù vedremo ora della fine della stagione detto questo dicevo leo il pelo nell'uovo perché isolando la parte buona della prestazione che è il 95 per cento che la spalla abbiamo visto aggressiva che segna raffica eh attaccanti in palla vido fenomeno eh ok va bene quel primo quarto d'ora ci ha fatto capire che eh il gol di melchiorri ha scrollato di dosso un sacco di sicurezza da questa spalla perché l'approccio non era stato eccezionale mettiamola così no 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 ma è un non è un segreto l'ha detto anche venturato nell'intervista post gara che sì tutto bene tutto bene però due cose non gli sono piaciute l'approccio iniziale perché il gol preso si stava esatto letteralmente sta facendo addosso e il gol preso perché chiaramente insomma è arrivato in un momento che io orla l'ho vista da casa come ben sai la partita dopo il gol preso io ho avuto paura ci sono stati quei cinque minuti di incertezza vero sì ed è una cosa se ci pensi strana perché comunque stai vincendo in casa tre a zero quindi dopo il gol preso tre a uno chiaro e quindi c'erano comunque tutti i presupposti per essere sereni eppure eh anche parlando con altri amici tifosi e colleghi eh nessuno ha avuto la sicurezza di dire vabbè ha preso un gol però comunque la partita ce l'ha in pugno no e anche venturato ha sottolineato che un po' di paura anche loro ce l'hanno sintomo che eh l'hanno avuta volevo dire sintomo che tutto sommato non è stata solo un'impressione da dagli spalti no questa anche loro insomma vuol dire che non sono così ancora tranquillissimi chissà che questa vittoria con cinque gol spazi via un po' di un po' di quindi va bene niente tisana per ora me la farò tra tra un'oretta e Roberto ci dice non male anche la maglia di Everton Lewis è vero ne ho viste ne ho viste le maglie di Everton Lewis tanto Leo ti ricordi una scena meravigliosa di Everton Lewis quando si festeggiò la era la seconda salvezza sì mi dici eh no era la prima no era la prima salvezza era la quando è andato in bagno no 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 quello era pa no perché che viene bloccato nel traffico alle 4s e la gente sale in macchina con lui tipo la ricordi quella scena c'è un video anche su youtube che se non sbaglio l'ha fatto Riccardo Rizzo il nostro collaboratore evidente Everton stava passando alle 4s con la gente che festeggiava la gente se ne accorta è grande Everton è la gente che gli è salita in macchina insomma è stata una scena veramente bellissima ricordo una scena simile sulla smart di Antenucci che è passato davanti allo stadio con i finestrini giù gli hanno tenato dentro di tutto compreso delle persone è stata una scena molto bella gran cosa e la paura c'è dice Max perché non siamo nuovi a farci recuperare è vero è vero perché la SPAL ha perso molti punti da situazioni di vantaggio in questa stagione compresi per esempio quelli con la regina insomma ricordiamo bene insomma la SPAL non in vantaggio facendo 20 minuti fatti bene poi si si squagliò come come un ghiacciolo e infatti orla ieri nella nell'intervista sempre post gara avventurato gli ho proprio detto mister avete fatto 20 tiri in porta anzi avete fatto 10 tiri in porta e ne sono entrati la metà cinque che cosa è cambiato sei perché quello di crociata era altrettanto buono al di là del fatto della del commento che è uscito oggi sulla pagina da spallino in cui il valore degli xg è stato il migliore in questa stagione lui effettivamente ha dato una risposta interessante ha detto che hanno cercato di lavorare non tanto sul campo perché i giorni comunque erano pochi le ore di posizione erano poche ma ha sezionato dei video per reparto per situazione per singolo giocatore per dare la possibilità non tanto a creare grossa quantità di mole di lavoro sul campo ma a fargli capire che cosa devono fare ora io non credo sia questa la spiegazione del perché la SPAL 25 e 1 però sicuramente forse venturato sta cominciando a mettere un po di ordine no forse sta è un po più cosciente rispetto a clotet dei limiti della squadra e cerca di fare con quello che ha mentre clotet era un po più ambizioso perché voleva fare determinate cose e non con la squadra non fa. Certo ma si vede proprio in questo approccio anche diciamo di ricerca immediata della profondità cioè mentre la SPAL di clotet giocava con un fraseggio più elaborato qui non ci sono problemi a sparare la palla lunga e vedere cosa succede quindi e questo questo a volte paga insomma dipende sempre dall'avversario. La Ternana secondo me è stato bravo venturato perché ha capito che i difensori della Ternana e i centrali soprattutto sono lentissimi e quindi ha detto con questo questo pallone alle loro spalle gli facciamo male e infatti la prima palla che Vido ha messo alle spalle dei difensori Melchiorri ha fatto gol. E c'è anche palla tra l'altro che ha messo Vido. È vero infatti vorrei vorrei parlarti di di questo infatti perché fino a una settimana fa diciamo ma che mercato no dicevamo io e te no però che mercato di gennaio deludente non è arrivata la punta insomma Vido non è mica malaccio perché ha fatto tre assist e due gol fino adesso non è un brutto impatto. Se andiamo a misurare l'impatto che ebbe a Sensi un anno fa non ebbe alcun impatto ecco in termini di numeri ecco poi per il resto magari qualche buona prestazione della fece però ecco questo giocatore magari preso un po' come dire con un certo valore. l'opinione pubblica sta facendo molto bene. Andrea dice anche in la punta. Tra l'altro Orla ogni volta che sento parlare di Vido mi viene in mente il meme che è stato fatto credo da Spalmeme o da qualcun altro che ho pubblicato da loro in cui diceva incredibile c'era la schiena questo tifoso si è stato fatto a tutti i gol di Vido nella schiena e c'era una schiena completamente normale però insomma con ieri quel tifoso fantomatico deve essersi stato fatto qualcosa perché eh sì per forza. Vido anche comunque all'esordio l'ha fatto bene l'ha fatto un super assist per finotto a Lignano poi l'ha fatto vedere anche buone cose poi l'ha detto anche lui cioè io non sono l'attaccante che fa che ti garantisce le reti non sono quelle tipo attaccanti sono un attaccante che si muove fa gioco fa quello che ci ha fatto vedere dai ed era importante comunque. Sì sì a me piace. Fermo le tue che la porta la vede perché non ha mica fatto due gol facili ieri sera eh. Ah no 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 infatti. E parliamo anche un attimo di Melchiorri però perché è un giocatore anche lui secondo me è un po' sottovalutato perché allora che Melchiorri abbia delle qualità non è che lo dobbiamo scoprire noi perché questo è un giocatore di 35 anni che ha frequentato anche la serie A è stato molto sfortunato tra l'altro perché nel momento migliore della sua carriera era in serie A col Cagliari e si lesionò il ginocchio e lì cominciò la sua discesa. Però insomma. Sa giocare la palla e sa giocare a calcio. Sa giocare a calcio poi è molto scaltro e comunque devo dire per un giocatore 35 anni che ha avuto tutti i problemi che ha avuto anche atleticamente lo stiamo vedendo bello bello scattante. Sì sì senza considerare che poi Melchiorri stava per togliere il castagno dal fuoco anche a Vicenza e qualche giorno fa quindi. È vero. Eh noi siamo in post partita non solo dell'ultima partita con la Ternana ma anche con la Vicenza. Quindi eh Melchiorri secondo me sta attraversando un ottimo momento di forma ma lo vedi anche nell'atteggiamento no? Noi anche nell'ultima diretta avevamo criticato la spalla come tutti perché non si poteva fare altrimenti per l'atteggiamento perché sembrava che prendere tre gol, prenderne quattro, fosse uguale. Ieri ho visto finalmente qualcosa di diverso. Ma quindi questa è la copia sulla quale puntare per le prossime partite? Ma sì considerando l'infortunio di Finotto io penso proprio di sì. Insomma non credo che Venturato con una vittoria del 5 a 1 cambi. Poi magari i dati sulla stanchezza diranno altro ma non credo. Tu hai parlato di Melchiorri ma io Orla devo dirti la verità. A parte il fatto che mi ha impressionato Melchiorri è andato oltre fino adesso quelle che sono le le mie aspettative personali. Perlomeno quando è arrivato insomma sì è arrivato in uno scambio con Murgia però insomma sembra... Scambio della disperazione tra l'altro. Esatto. Forse lo scambio dell'ultimo giorno quando ti scambi la figurina no? Che ce l'hai 4-5 volte dici vabbè toh. Orla un giocatore che a me ha veramente impressionato soprattutto nelle ultime due tre partite anche se i risultati non sono sempre arrivati è Mancosu. Mancosu sta facendo veramente la differenza letteralmente. Mancosu è ovunque è ovunque cioè attacca inventa poi ho letto dei commenti oggi. Eh sì però non fa passaggio. Sbaglia troppi i passaggi. Sì ma questo va anche in difesa recuperare la palla. Dice su a tutta la squadra. Cioè ma che cosa vogliamo di più? Cioè nel senso è ovvio che se tutti facessero il loro bene non ci sarebbe bisogno che Mancosu dal trequartista andasse a fare il recupero nella fascia. Al limite della propria area. Cioè insomma no. Cosa dici? Io Mancosu veramente... No. Mancosu è chiaro che è salito di livello col nuovo allenatore perché evidentemente non solo gioca in una posizione e con dei compiti molto più affini alla sua idea di calcio mi viene da pensare ma credo si sia proprio preso a cuore l'idea di tirar fuori la squadra dal momento difficile in quanto uno dei giocatori più importanti sia di nome ma anche più importanti in termini di personalità, di leadership. Ha interpretato veramente al meglio questo ruolo ed è uno spettacolo soprattutto dal vivo perché in tv ok si nota tutto questo ma dal vivo anche quando la palla è lontana si vede proprio dal linguaggio del corpo che è carico proprio non accetta minimamente questo andazzo che c'era fino prima di spalte nana. Ma contro la regina che ha portato fuori Cionec. Per carità è stato un gesto anche quasi che ha fatto sorridere però in realtà ti fa capire quanto in realtà è dentro la situazione, quanto in realtà lui ci tenga perché non è un gesto che per quanto possa essere ridicolo o comunque preso dal momento al nervosismo, ha fatto ridere. Però in realtà ce ne fossero di Mancosu, ce ne fossero. Cosa che all'inizio della stagione dicevamo mamma poteva fare di più, potrebbe fare... Però Mancosu è stato intellettualmente onesto perché in un'intervista, non ricordo più se l'aveva rilasciata la gazzetta o da un'altra parte, disse... No, scusa devo correggermi, l'aveva rilasciata a Noa Ferrara, l'aveva fatto il nostro amico Aleciduatti, al quale va un elogio, perché se non sbaglio era a novembre insomma Mancosu non era in un buon momento e disse... Io il primo anno però in genere faccio sempre un po' fatica, non ha saputo spiegare perché o per come ma... Io in genere il primo anno devo sempre un po' ingranare, ora è ingranato, che siamo nella parte diciamo centrale del primo anno... Primo arminante, determinante. Esatto, dice Giacomo Marzola Mancosu è diffidato purtroppo, sì è vero e tra l'altro ci sono quattro giocatori in diffida, c'è Mancosu, c'è Celia, c'è Dickman e c'è Mora. Mora che è uscito con un problemino, Venturato ha detto che non dovrebbe essere niente di particolarmente serio, aspettiamo il bollettino medico della spalla. Volevo recuperare un paio di commenti Leo, perché abbiamo scatenato un po' tutti con questo discorso su Mancosu, Melchiorri e via. Mi ha fatto ridere il commento di Edo che ha detto, a senso ho fatto guadagnare solo il tatuatore, è vero. A Melchiorri manca solo una buona titta di cappelli, dice Paso. Sì, e a me fa specie pensare che Melchiorri abbia due anni in meno di me. Dopo un giorno magari, se vuoi Leo, faremo un approfondimento su quanto io sia sconcertato dal vedermi più vecchio dei calciatori, ma vabbè, questa è una cosa... Questo fa parte del supporto psicologico che attiveremo a tempo debito. Oh Leo, io racconto solo questo episodio. Ti ricordi Melara, il giocatore, l'ala destra che giocava la spalla dieci anni fa in CLC? Ecco, Melara se non sbaglio del 86 era qui quando lui aveva... Bel giocatore tra l'altro, eh? Bel giocatore, tra l'altro, ha smesso da poco o addirittura gioca ancora. Vabbè, comunque, ne dimostro 53, dice Emiliano Brunetti. Grazie, Emiliano. Non so, a volte anch'io ne dimostro troppi, a volte... Vabbè, comunque, lasciando per... Melara, mi ricordo che io all'epoca, se si parla del 2010, giù di lì, avevo 25 anni. Melara ne aveva uno in meno di me. Ma quelle volte che lo incontravo, dicevo, ma questo avrà 40 anni, cioè, nel senso che mi sembra tanto grande, maturo, eh? Avevo un anno meno di me. Vabbè, ma la stessa roba con Schiattarella, ne ha addirittura due meno di me. Ma mi sembra più vecchio. Vabbè, ma con calciatori capita. Secondo me è una cosa abbastanza comune. Vabbè, una divagazione. Vorrei prendere il commento di Buzzo, perché qua, oltre a sottolineare il fatto che il gioco della volta scorsa l'ho vinto io, perché Vido ha fatto bensì due gol. È il vero motivo per il quale... Ciao, Coco. È il vero motivo per il quale l'Apoli non c'è stasera, perché è in polemica, in realtà. Perché lei aveva detto Mancosu, tu hai detto Vido, vabbè, io ho detto Rossi, è stato in tribuna, ma i punti, cioè, come li facciamo? Diamo un punto a te, un punto anche a l'Apoli, due punti a te, uno a l'Apoli, cioè, non abbiamo una tabella su questo. No, vabbè. L'importante è che io faccio più punti dell'Apoli, perché, cioè, Vido con un tiro all'incrocio. Diamo a Gioi sui meriti. Ecco, allora, io avrei voluto, la partita col Vicenza, avrei veramente voluto fare l'attacco cam e vedere Taccopina, la faccia di Taccopina quando gioca Rossi titolare e segna. e poi entro a Zucculini e l'avevo pronosticato, abbiamo le registrazioni qui, e tira quel tiro bananato che va a finire sul... No, ma aspetta, 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 perché dopo, su un ripiegamento difensivo, ha fatto Prata a fare un rinvio, ha svirgolato pure quello. Però è stata la svirgolata più efficace della storia, perché ha dato a dire che il braccio non sia stato dato il rigore, e lì, cioè, meglio che non ne parliamo, perché è stata una cosa, ogni tanto si danno questi rigori, ogni tanto no, ogni tanto si, non si capisce bene il criterio che ci stia dietro, però veramente, cioè, secondo me, se avessero dato il rigore, e magari l'asfalto avesse segnato sugli sviluppi di questo rigore... Taccopina poteva rivendicare l'impatto di Zucculini. Esatto, sarebbe stato bellissimo. Vado avanti con due o tre commenti che sono arrivati. Allora, intanto c'era una considerazione di Luca Pocaterra che mi sento di sottoscrivere, dice, bisogna elogiare chi ha tolto gli stivali a esposito, infatti il cureva come l'aveva mai fatto prima, è vero, è esposito, ha fatto una bella partita, tra l'altro mi ha fatto piacere vedere anche come è andato a esultare rabbiosamente sotto la curva quando ha fatto gol Vido per il 5-1, a testimonianza, insomma, di quanto era felice, insomma, per aver fatto anche un passaggio non così complicato, in realtà, per un suo compagno che ha fatto cosa, però comunque dimostra coinvolgimento, dimostra voglia di sfogarsi, mi ha fatto piacere vederlo perché è un giocatore che anche noi stessi abbiamo criticato molto e che speriamo possa salire un po' di livello perché di recente, insomma, non ha fatto molto. E poi vedo, Leo, ci sono diversi commenti su Colombo, anzi, prima di parlare di Colombo, ciao Filippo Rubini, il nostro fotografo di fiducia, dice, potete dire ai giocatori di esultare dove ci sono i fotografi, perché evidentemente vanno in tutte le direzioni tranne che in quella dei fotografi. Faremo presente, Filippo, magari con qualcuno in società che diano questa indicazione in modo da farvi fare delle belle foto. Vorrei anche ricordare che Filippo aveva fatto delle foto meravigliose dell'esultanza di Mancoso in spalla regina, ma non ce ne siamo fatti assolutamente niente perché poi la spalla è stata travolta. Dicevo, cosa succede a Colombo? Rischia di essere accantonato, rischia di finire la stagione col muso lungo, adesso che Vido, Melchiorri, Rossi stesso si stanno un po' riscattando, immagino che l'attelato a un certo punto possa trovare spazio pure lui, visto tutto il tempo in cui è stato fuori. Difficile da dire, Colombo da quando ha preso il Covid, diciamo attorno alle vacanze di Natale, il suo rendimento è crollato, non solo in termini di gol, perché per carità ha giocato anche meno, ma in termini proprio di approccio, di mentalità. Prima correva su tutti i palloni, con Clotet addirittura andava a fare il terazzino, poi è stato criticato Clotet per questa scelta, però comunque quello che voglio dire è che aveva un gioco a tutto campo, oltre che segnare dei gol pesanti. Gli unici poi che la spalla ha segnato, quasi gli unici sono arrivati da Colombo o tramite Colombo. Adesso sì, mi sembra un po' appannato. Anche ieri ho dato un commento, forse proprio sulla pagina da Spallino, in cui si diceva che aveva un sinistro da Barcellona e un destro da Portotolle, perché quando ha fatto quel tiro, che poi ha fatto una mezza ciabattata, se fosse stato il Colombo del girone d'andata probabilmente avrebbe fatto qualcosa di molto meglio, perché quella è la sua specialità, si appoggia il tiro e poi fa un tiro a giro. Non lo so, sicuramente qualcosa che non va c'è. Venturato in una conferenza stampa, ormai ho perso il conto di quale sia stata, ha detto l'ho visto scarico fisicamente e mentalmente. Non è una frase banale da parte di un allenatore, perché possiamo capire dal punto di vista fisico, perché ci sono mille ragioni, insomma, è comunque un ragazzo di 20 anni che è al primo campionato di B da titolare, in particolare non secondario. Mentalmente cosa può averlo scaricato? Il momento negativo della squadra, il fatto che non riesca a fare gol, il fatto che sia un po' schiacciato dalle aspettative, il fatto che Tacopina l'abbia definito 4-5 volte il miglior attaccante della Serie B. Secondo me è un po' tutto, è arrivato con i gradi del titolare, è arrivato con i gradi del predestinato perché era stato pompato così, non abbiamo bisogno, Tacopina diceva, di altri attaccanti perché lui è l'anno in cui esploderà e lui effettivamente i suoi gol li ha fatti nel girone d'andata e poi si è inceppato. Si è inceppato e poi la Spal, per fortuna, è corsa ai ripari andando a prendere anche Vido adesso che è arrivato, è andato a prendere fino a 8 giocatori funzionali. Secondo me non c'è un unico fattore che ha fatto in modo che Colombo stia avendo un po' di fatica, però forse l'insieme di queste cose, il fatto che vede che anche i compagni di reparto segnano ed è difficile pensare che l'avventurato le prossime partite possa far sedere in panchina uno tra Melchiorri e Vido con la partita che aveva fatto ieri. È difficile pensare, ma anche a Vicenza non hanno fatto male. Quindi sì, Massimo dice la stessa cosa su stessa Luca. Sì, Luca è anche stato infortunato, però è stato infortunio. Luca forse è stato ancora peggio perché Luca, io ricordo a ottobre i titoli, Luca può essere una soluzione per Mancini, cioè è una roba, una follia completa. Perché stiamo parlando di un 2000 al primo campionato di B che fa sette gol in un mese e mezzo e diventa un candidato per la nazionale che si sta giocando gli spareggi per andare al mondiale. Non diventa un candidato per un raduno di quelli in cui chiamano 30 giocatori per dare un'occhiata, ma una roba del genere. Quindi mi viene in mente un ragionamento che fece anni fa Davide Nicola, che tra l'altro è stato di recente ingaggiato dalla Solanitana, ai tempi in cui lui allenava il Crotone e aveva firmato quella fantastica salvezza del primo anno del Crotone Serie A e diceva che la Serie A, ma questo è un ragionamento che si applica in parte anche a Serie B, è un campionato difficile anche perché c'è questa componente mediatica che amplifica tutto a dismisura, cioè amplifica a dismisura quando fai bene, ma amplifica a dismisura anche quando le cose non vanno. E il giocatore professionista del ventunesimo secolo deve sapere trovare un equilibrio su queste cose e forse Lucca, al pari di Colombo, è finito col pagare anche questo al netto poi dell'infortunio che tu hai menzionato. Sì, e poi Orla, l'ultimo su cui dobbiamo parlare è il livello singolo perché non possiamo... Prima di voltare leggermente pagina rispondo ad Alberto Tabacchi che dice si è illuso di tornare a Milano a gennaio e Alberto, no, non è vero questa cosa perché nell'accordo che c'è tra Spal e Milan la questione della sua permanenza fino a fine stagione era blindata, cioè non è che il Milan ha mai considerato di interrompere il prestito, a parte che non è che il Milan può interrompere il prestito quando vuole, deve avere il consenso della Spal per farlo. Se ricordiamo l'anno scorso Sebastiano Esposito, la cosa venne fatta con mutua soddisfazione, nel senso che la Spal non era contattata di Esposito e l'Inter voleva più minutaggio per il giocatore e quindi il giocatore è poi andato da un'altra parte, ma per Colombo questa cosa non è mai esistita, nel senso c'è il 0% proprio, fine. Senti Orla, ma dobbiamo parlare di Vicari. Sì, infatti Max ce lo suggerisce. Probabilmente ieri eri allo stadio, anzi quasi sicuramente, no? Non mi ricordo chi c'era di noi allo stadio. No, non c'ero io, c'erano Enrico Baroni e Riccardo Rizzo. Ecco, allora l'avrei visto dalla tv, insomma. Cosa sta succedendo a questo giocatore? Perché non è più il Vicari né a livello, allora, non che sia mai stato a livello caratteriale il trascinatore, però sembrava che un po' più di tigna ce l'avesse. Quest'anno io questa tigna non l'ho mai vista. In più, tra l'altro, si parla di qualche episodio non grave, però comunque di qualche screzzo che c'è stato verso qualche tifoso della curva. aggiungo io, ripreso anche dalle telecamere di Dazon, a fine partita, quando tutta la squadra è andata sotto la curva per il solito saluto finale. E lui invece è stato, c'era proprio la telecamera su di lui. Sì, un po' in questa parte. In cui è arrivato, proprio il momento in cui era arrivato davanti alla curva, è stato lì, credo, una frazione di secondo, per poi girare, si è detto qualcosa e è tornato indietro. Questa è la fascia di Capitano, però. È un giocatore che ha scritto la storia della SPAL e va riconosciuto, perché è stato protagonista della cavalcata. Però adesso le cose non stanno andando bene. Non so neanche quanto, al di là del fatto dell'importanza della fascia del Capitano, perché poi il vero Capitano spesso è senza fascia nelle squadre, no? Però sinceramente comincia a essere un po' difficile digerire questo tipo di comportamenti, questo tipo di atteggiamento. Non dico menefreghista, perché si sa che comunque lui ci tiene, però un campo un po' esatto, non ci sono dubbi. Però l'atteggiamento esterno è quello di una persona quasi come se il ciclo fosse finito, quasi disinteressato. Ma lo è, lo è, Leo. Io credo che non sia un peccato di lesa o maestà dire che Vicari già l'anno scorso considerava concluso il suo tempo alla SPAL. Cioè che aveva sostanzialmente richiesto alla società di poter andare via nel caso ci fossero delle opportunità per farlo. Il problema è che mi risulta che di opportunità serie e concrete per farlo non ce ne siano mai state. Non sto mettendo Vicari nell'angolo dei cattivi, perché l'anno scorso più di metà squadra ragionava così. Anche Strefezza, che noi abbiamo discusso lungo i mesi per via di tanti gol che sta facendo la Lecce, anche lui era della stessa idea. Se fosse arrivata l'occasione per andarsene da Ferrara e gli è arrivata a luglio, se ne sarebbe andato di corsa. Ma perché, ne ho parlato anche lunedì scorso, quando sono andato in trasmissione da Alessandro Sovrani a Telestense, è fisiologico che i giocatori dopo tre, quattro, cinque anni, anche se stanno bene in un posto, anche se sono ben voluti, e Vicari penso che in generale comunque lo sia, soprattutto per quello che ha fatto nei suoi primi tre anni di spalle. Ci sta che venga a mancare un po' di coinvolgimento, anche di stimolo, non ci trovo niente di scandaloso né di strano. Poi, per quanto riguarda quello che è successo ieri sera, da quello che ho avuto modo di capire, di ricostruire, anche con testimonianze di persone che erano in curva, cioè erano tre, quattro persone che gli dicevano delle porcate e lui se l'è presa male. Poi mi è parso di capire che lungo i mesi scorsi Vicari è stato oggetto di messaggi anche molto pesanti, via social e roba del genere. Non possiamo neanche dire ai giocatori accettate di essere insultati e mettetevela via, perché non è giusto, sono esseri umani. Chiaro è che, Leo, il suo linguaggio del corpo è un po', come dire, va un po' in controtendenza con quello che ci si aspetterebbe da un capitano, quello sì. Ed è questo a stridere in questo momento, almeno per come lo vedo io. Io non sono molto d'accordo. Quante persone c'erano ieri allo stadio? 3.000? No, 3.000 euro. 3.000 è qualcosa. 3.000, vabbè, ok. Per quanto due persone, 3, 4, 5, 10, mentre tu stai entrando in campo ti possono aver detto delle porcate e, come dici tu, non è che tu devi accettare le porcate e basta. Però ne rimanevano altre 3.000 che erano lì ad applaudirti, a sostenerti. E quindi è un accettamento, ho capito. Cioè, io credo che il ruolo del calciatore, la professione, il lavoro del calciatore sia un ruolo fortunato, sia un lavoro fortunato, perché hai la possibilità di fare più o meno quello che ti piace, con pressioni psicologiche importanti. Più vai su, più ne hai, ovviamente. Però ci sono anche situazioni peggiori. Io non credo che un giocatore con la fascia al braccio dal capitano possa permettersi un atteggiamento di quel tipo lì. Anche se ricevi delle porcate, perché le porcate le ricevono tutti. Tutti. Sì, Leo, ma il problema, al di là di questo, è che l'impressione, anche vedendo certe prestazioni, certi errori, è che non ci sia la giusta serenità. Se questa scarsa serenità derivi dal sentirsi poco apprezzato, l'eccessivamente criticato, o che derivi dall'essere schiacciato dalla responsabilità dell'essere capitano di una squadra che fino a due anni fa era in Serie A e che adesso fa fatica a rimanere fuori dalla lotta sorvetta in Serie B. Purtroppo non abbiamo chiavi di lettura precise e non sarebbe neanche male che fosse lui a fornirle, tra l'altro. Proprio in quanto capitano. No, non solo in quanto capitano, ma in quanto, questo mi sento di dirlo, lui stesso si senta un po' bersagliato dalla stampa. Ma la stampa ha tanti difetti, noi ne facciamo parte, ma forse dovremmo smetterla, non noi come stampa, ma come ambiente del calcio, di vedere la stampa come un potenziale nemico, vederla come un alleato di cui ogni tanto diffidare. Perché se Vicari spiegasse, non dico a cuore aperto, ma con grande sincerità, ciò che lo ha disturbato di più è ciò che ha causato questo o quel problema. Perché magari Vicari, che ne sappiamo noi, sta giocando con un problema fisico da tre mesi e stringe i denti perché ci tiene e vuole esserci. Questo cambierebbe molto la visione dei fatti che tutti abbiamo di lui. Quindi, non lo so, è una questione un po' spinosa. Mi dispiacerebbe molto però che si arrivasse a fine stagione senza una risposta. Cioè, non sarebbe male... E sappiamo benissimo tutti che succederà così, vero? E succederà così e che magari lui a luglio passerà in un'altra squadra perché gli rimane solo un anno di contratto e tanti saluti dopo 190-200 presenze, non mi ricordo più quante ne ha fatte. Sarebbe un peccato. Sarebbe bello sapere da lui, e con questo non sto alludendo che dovrebbe partecipare alla nostra diretta, anche se sarebbe bello, ma che la SPAL sfruttasse la stampa come un vero e proprio alleato per mettere Vicari probabilmente in una posizione migliore agli occhi dell'opinione pubblica. Sarebbe una mossa, secondo me, molto intelligente da fare. Vabbè, sarebbe a livello di comunicazione sì, però... Questo è il mio punto di vista. Chi è in società potrebbe dire, vabbè, sei furbo tu a fare una roba che ti farebbe comodo. Certo, lo so, ma mi sembra che questa cosa possa incontrare gli interessi di tutti. Poi magari c'è una parte che mi... E' comunque una cosa che sappiamo tutti che non succederà mai. Comunque, al di là delle spiegazioni che Vicari potrebbe dare, il problema c'è. Io, quando ho letto la formazione, ieri mi aspettavo Meccariello. Devo essere sincero. Meccariello era la seconda panchina consecutiva. Non che Meccariello, appena entrato, abbia, come dire, fatto cose incredibili, perché anche sul gol non è sicuramente esente da colpe. Però... Ma si è costato due volte Meccariello. Gioca con un altro atteggiamento. Secondo me, in questo momento in poi, considerando quanto è importante la posta in paglio che la spazio sta giocando, c'è bisogno di un altro tipo di atteggiamento. Quindi, se Vicari ritiene che il suo ciclo sia finito, c'è bisogno di altro. Orla, secondo me. Dice Sara Guidorti, anche Viviani ha problemi con la stampa. Anzi, no, solo con lo spallino. Ma, secondo me, Viviani ci hai anche dimenticato di averti bloccato. Ma anche secondo me. E poi... Dimmi. No, sto pensando che a me, quando sento che un giocatore pensa che la stampa ce l'abbia con lui... Noi sappiamo di chi sto parlando in questo momento. Io veramente trovo assurdo che si possa fare un pensiero tale per cui un giocatore, io o un giornalista, scusami, io, te, Sandro, Mauro, ci svegliamo la mattina e decidiamo di bersagliare qualcuno perché ci sta antipatico. Ma, cioè, il ruolo della stampa è anche quello di dare delle valutazioni, una lettura diversa, un commento, un'analisi, un voto quando vanno fatte le pagelle. E se uno vede la partita che ha vista in un certo modo e secondo uno ha giocato male, gli si dà il voto basso. Nella maniera più serena possibile. Io penso a questo argomento. Edoardo dice, chissà se leggeremo uno Spall Magazine con Vicole a cuore aperto sarebbe top. E no, Edo, perché qui c'è un grosso equivoco di cui ho parlato l'anno scorso, parlando di autointerviste e prendendomi anche delle porcate da chi alla Spall ci lavora, ma questo è un altro tema, ma non è così che dovrebbe funzionare perché smettiamo che Vicari spieghi la sua versione allo Spall Magazine che è curato dall'ufficio comunicazione della Spall. Ma scusa, ma se lui dà una versione, io devo avere la possibilità di fargli una domanda perché mi spieghi meglio. Perché in genere in queste interviste fatte in casa, che le faccia la Juve, che le faccia la Spall, che le faccia il Monza, che le faccia chi vuoi tu, si evitano i temi più problematici o comunque si va a grattare via un po' la superficie e poi saluti. Non funziona così. Cioè è per questo che la stampa serve ancora. È per questo che gli uffici stampa non possono rimpiazzare i giornalisti. Quando i giornalisti si comportano in maniera corretta e onesta, nei limiti del possibile, evitando le distorsioni volontarie. Perché adesso non voglio fare un trattato di sociologia dei media, ma esistono le distorsioni involontarie. Una distorsione involontaria, Leo, può essere che io ritengo che il ruolo del terzino-sinistro vada interpretato in una certa maniera. Se il terzino-sinistro che sta giocando alla Spall non interpreta il ruolo a quella maniera, ci può anche stare che io durante la stagione gli dia mezzo voto in meno. Perché secondo me va meno volte di quanto ritengo debba andare e quindi questo vale come demerito. Ma questo non vuol dire che ce l'ho con lui o che ce l'ho con chi che sia. Tutti i giornalisti comunque si fanno impressionare di più o di meno da un giocatore, senza contare che ci sono giocatori più o meno facili da valutare. Uno come esposito non è facile da valutare. Per esempio, faccio un nome, non è facile da valutare. Perché magari è un giocatore che ti recupera 60 palloni a partita, ma non fa un singolo passaggio in verticale. Cosa conta di più nel suo ruolo? Se recupera quei palloni o se metti i palloni in verticale. Le valutazioni sono spesso soggettive, quindi vanno sempre pesate all'interno del loro ambito e anche dell'economia della partita. Intanto Sole dice vogliamo Viviani in diretta qui allo Spallino. La vedo un po' difficile. Un paio di mesi fa che vogliamo fare il Super Bowl della riconciliazione tra lo Spallino e Viviani, io sto lavorando per fare in modo che questo accada. Secondo me prima la Spall ci salva e più le probabilità che questo evento succeda salgono. Ma veramente io devo dirlo per l'ottocentesima volta da quando facciamo questi reti, io non ho niente contro Viviani. Niente. Cioè, negli anni scorsi lo consideravo un giocatore non più in grado di giocare a certi livelli. Ma penso che questo fosse il parere di altre migliaia di persone. Non credo ci sia bisogno di ripetere e ribadirlo. Insomma, l'avevo già detto mille volte. Andare a baciargli i piedi e chiedergli scusa. Non mi chiede scusa di niente perché non mi risulta di averlo mai insultato né io né nessun altro che sia affinato allo Spallino. Intanto c'è la Bea Bergamini che dice grande felpa orla e al di là di questo la ringrazio per quella, come si dice, quell'immagine che ha messo ieri durante la conferenza stampa di Venturato perché ha veramente, poi Bea non l'hai pubblicata per discorso di autorizzazioni però meriterebbe perché fa veramente molto ridere. La mia felpa dico che è la felpa delle Aquile, la squadra di football americano di Ferrara, è una realtà alla quale sono molto affezionato e che tra l'altro tra 15 giorni comincerà il campionato e vi invito a sostenere. Ma io sostengo tutte le realtà sportive di Ferrara, mi stanno tutte a cuore, nel senso che è la città che mi ha adottato e ci mancherebbe altro. Sono le realtà sportive che a volte non adottano me, ma questo è un altro discorso. Comunque orla tra una cosa e l'altra. Allora intanto ci tengo a salutare Gianluca Gardi, ciao Gian, che scrive a proposito di cicli finiti e amori che non finiscono mai, ieri ho divorziato e sono venuto alla Spal, su Spal da Mare il mio racconto palindromo della giornata. Spal da Mare è un blog in cui tre o quattro malati di Spal che ribacchiano ogni tanto, tra cui Gianluca, vi invito a seguire anche questo. Oh, tra l'altro, Leo, ho queste segnalazioni, ma non dobbiamo segnalare un evento che c'è lunedì, ti ricordi? L'evento di beneficenza? Eh, sì. Sì, assolutamente sì. Adesso vado a recuperare i dettagli. Ok. Di cosa volevi parlare intanto? Beh, tipo della prossima partita che ci sarà. Parma-Parma. Noi abbiamo ultimamente, se tu fai caso, le nostre dirette, la partita che c'è dopo non la consideriamo più. Cioè, prima dicevamo, facciamo un po' prima, un po' dopo, adesso quella che c'è dopo è massiva. Eh, ma perché queste nostre dirette sono preparate in minima parte e poi orientate da tutti i commenti di quelli che partecipano e di questo siamo grati, perché spesso vengono proposti dei temi che magari non abbiamo messo neanche in scaletta, questo a testimonianza della distanza che viene rimproverata tra i giornalisti e l'opinione pubblica. Ma, Leo, allora, si va a Parma, ma siamo pronti per le tabelle? Perché io voglio stimolare chi ci sta seguendo. Avete già fatto la tabella partita per partita che spiega come la spalla arriverà ai play-off? Perché mi risulta che ci sia gente che l'ha già compilata stamattina, stamattina. Quindi ieri sera, dopo l'ha detto, beh, buona, adesso vi dico io come arriviamo ai play-off. Se qualcuno di voi ha compilato la tabella o crede di poterla compilare a breve, ce lo faccio sapere. Però, ecco, Leo. Commentate qua sotto perché vogliamo leggerla. Tra l'altro qualcuno stamattina ha scritto tenetevi liberi per giugno perché dobbiamo andare a vincere i play-off. La spalla in questo momento è a meno 14 dall'ottavo posto. Beh, intanto Sole ci scrive, siete forti, sembra piacere ascoltarti quando non lavoro. Sì, sarei preoccupato se tu ci ascoltassi mentre lavori perché sarebbe un problema. Vabbè, e quindi, allora, ora voglio sapere da te come vedi la partita di Parma. Esatto, è anche un pronostico dai nostri lettori perché adesso voglio vedere se regna l'ottimismo oppure se regna la, come dire, la via cautelativa. Io mi sbilancio, prima che ti dica qualcosa, mi sbilancio e dico che secondo me la SPAL a Parma può fare bene unicamente sulle ali dell'entusiasmo, non unicamente perché comunque in Parma… Pensiamo alla luce di quello che è successo negli ultimi quattro anni che in genere le trasferte a Parma dicono sempre abbastanza bene. No, 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 al di là di cosa è successo negli ultimi anni, io anche col Vicenza non ho visto una brutta prestazione, l'ho vista in crescita, poi vabbè, c'è stato il 5-1 con la Ternana, fin troppo facile da dire. Vedendo anche il trend del Parma, che non mi sembra in un momento strepitoso, esatto, io penso che la SPAL possa fare bene perché penso che è così. Tu, Orla, cosa dici? Ma sì, in Parma non se la passa bene, infatti c'è chi ci chiede se… Hai trovato l'evento benefico nel frattempo? No, però è un evento che farà degusteria divina, che è questo posto che c'è in Largo Castello, tra l'altro uno dei posti in cui Joe ogni tanto va a farsi un aperitivo, che organizza questo evento benefico lunedì 28, nei quali si faranno dei gran cocktail e sarà coinvolta anche la SPAL e ripeto, un evento benefico. Cosa c'è di meglio di un evento benefico in cui c'è dell'alcol? Non credo niente. E quindi vi invitiamo a dare un'occhiata… Dove noi siamo andati a fare aperitivo settimana scorsa e siamo stati ufficialmente invitati a partecipare… Siamo invitati, faremo una diretta mentre sorseggiamo un cocktail, non lo so. Dipende dopo che numero di cocktail. Esatto. C'è una suggestione, aspetta, mentre parlavamo delle tabelle, di Beatrice, no Sara, no, a Beatrice, a che giornata Clotet ha preso il Brescia l'anno scorso? Ottimo spunto Beatrice, perché Clotet prese il Brescia sul fondo della classifica… 8 dalla fine, può essere? No, no, prima. Subentrò alla 22esima giornata, 22esima giornata che era il 9 febbraio, noi adesso abbiamo appena giocato la 25esima, però all'epoca il Brescia era messo Maluccio in classifica, era non lontanissimo dalla zona play-out. Alla fine si assestò all'ottavo posto, fece play-off, ma venne eliminato subito dal Cittadella. Comunque, detto questo, Parma, allora, Parma, mi riflettevo oggi su una roba, Leo, Parma io ero là quando ci fu quel 3-2 clamoroso, quel gol di Fares, uno dei momenti forse più entusiasmanti di quella stagione di Serie A, peraltro, perché, tanto un gol importantissimo perché la Spal non arrivava mica in forma a quella partita, cioè furono tre punti che girarono la stagione praticamente, con un gol tra l'altro di uno dei giocatori più criticati nel giorno d'andata, insomma, veramente una storia fantastica e poi quando si fa piangere il Parma è sempre una bella cosa. Sì, tra l'altro mi ricordo quando l'anno scorso ho avuto modo di sentire l'ex DS, Daniele Faggiano, del Parma, che diceva, oh, e ne avessi vinta una contro la Spal, perché praticamente tra casa e trasferta, credo che la Spal non l'abbia mai perso dal Parma da quando hanno ricominciato a incrociarsi. Tu sai che io sarò contento quando vedrò Faggiano, direttore sportivo della Spal, lo sai che... Per ricordarglielo ogni giorno, probabilmente. Allora, Parma non se la passa bene, ha fatto uno 0-0 col Pisa, devo essere onesto, non ho ben capito che prestazione ha fatto contro il Pisa, perché non ho avuto tempo di... In realtà non ha giocato male, è stata una prestazione abbastanza positiva, poi anche il Pisa ultimamente un po' ci ha mollato, però il problema di Parma è in leggera ripresa. Mi ha mollato perché ha fatto un girone d'andata in cui la vende praticamente tutte, quindi adesso un po' sta prendendo qualche colpo. Però sì, diciamo che sì, mi si è mangiato qualche gol di troppo e quindi in questo momento a Parma c'è quella situazione lì. Intanto a Franco Gnani dico, mi sono appena collegato con il presente di atteggiamento di Vicari, Franco ti invitiamo a guardare il pezzo di diretta quando l'avremo conclusa, perché c'è la registrazione, abbiamo parlato estensivamente di Vicari, se dovessimo ritrattare l'argomento staremmo qua fino alle 10 e mezza, ti chiediamo scusa, ma abbiamo veramente trattato in lungo e in largo questo tema. Allora, Andrea Sartini scrive due otto gol di schiattarella, è un po' crudele. Anche perché ci va piano anche lui, che ai parmigiani gli facciamo un culo grade come una forma di formaggio da 50 kg. Amo questo ottimismo e mi auguro tra l'altro che ci siano tanti tifosi sabato a tardini, perché insomma è una trasferta abbastanza vicina e bisogna dare un segnale di vivacità. No, dicevo sul Parma, per rispondere alla domanda che ci è stata fatta sui portieri, non credo, no, Buffon non lo recuperano, il secondo non lo so, quindi potrebbe giocare ancora il giovane. Sottovalutare il Parma è da pazzi, non sono da sottovalutare. Hai ragione Max, infatti io dico questo, non lo sottovalutiamo, però la Spal è un fatto, arriva da una bellissima partita, il Parma nell'ultimo mese e mezzo, se non sbaglio, ha battuto Pordenone e Crotone, cioè tra tutte, poi con le altre ha sempre fatto una faticaccia terribile. È chiaro che è la tipica squadra piena di talento, che se imbrocca la serata giusta ti asfalta, perché ha dei giocatori di una qualità individuale eccezionale, insomma. Adi Adi Simi, Pandev, Vasquez, lo stesso Schiattarella, che comunque è un signor giocatore. Sulla carta non c'è mica partita, perché nei singoli sono più forti, però se sono lì vuol dire che ho qualche problema, ce l'avranno pure. È certo, infatti. Una statistica, Leo, che ti consegno, se vuoi, vabbè tanto le mani non si vedono, Iachini è 0 su 6 con la Spal, nel senso che non ha mai perso contro la Spal. Quindi, cerchiamo di sbloccare sta cosa, perché tanto non mi ispiro questa simpatia all'uomo col cappellino, però questo è un tema personale. Quindi sì, Parma trasferta difficile, non sarebbe male inguaiarli un po', ecco, perché comunque il Parma, guardavo adesso, a 29 punti e a più 2 sulla Spal, la Spal può fare due cose, con un risultato positivo, può tirare il Parma nel discorso salvezza e soprattutto allungare un pochino e garantirsi un'altra settimana abbastanza tranquilla. No, una settimana no, perché dopo mercoledì successivo si gioca con Cittadella, quindi figurati. Tra l'altro, Leo, cosa facciamo noi con la diretta, perché si gioca mercoledì? Beh, ci penseremo. Lo annunceremo nei canali in base a come vanno gli eventi. Perché vuoi fare la diretta direttamente da... Dallo stadio, no, non si può, perché le regole non lo permettono. Oh, e non lo facciamo anche fuori perché c'è freddo, quindi niente. Esatto. C'è rimasto qualcosa di cui parlare? No, non mi sembra, direi che è rimasto un giochino stupido. Allora, intanto vado a recuperare la tabella e ti attribuisco un punto, quindi tu sali a 3 e la Polli, mi dispiace per lei, rimane a 2. Aspetta, tu quanto sei? Io sono a 5. Perché se tu me ne segni due, uno e la Polli, mi va bene lo stesso, così mi avvicino alla vetta e faccio la tabella a playoff anch'io. Vabbè, allora facciamo così, dai, così teniamo... Così siamo contenta anche la Polli. 3 punti la Polli, 4 tu e 5 io, quindi vediamo cosa succede. Allora, i pronostici della Polli non li sappiamo, adesso li richiediamo in live via WhatsApp. Abbiamo due partite, quindi abbiamo Parma e Cittadella. Oh, io comunque sto avendo un talento fantastico in queste ultime partite, non ne sto beccando in mezzo. Di solito i giocatori che pronostico rimangono fuori. Mi sto pensando. Allora, con Cittadella che tira? Con Cittadella, da Riva. E con Cittadella perché mai è ritroso, no? Cosa fai? Sì, perché ho fatto i miei calcoli. Allora, col Parma, Mancosu e col Cittadella da Riva. Eh, Mancosu, ti piace vincere faccia? Ok. Vabbè, io a Parma voglio scommettere sul momento di forma di Melchiorri. Vediamo se succede qualcosa. E con Cittadella... Ah, col Cittadella... Col Cittadella... Fai una scelta facile, divido perché ultimamente non sei... No, non voglio dire Vido, non voglio dire Vido... Dico Dickman. Sto stupito, vero? Sì. Sabato c'è Cosenza Alessandri, dice Massimo. È vero. Partita fondamentale per tutte e due. Ma speriamo in un altro bel pareggione. Fate una diretta alla Sandro, dice Buzzo. Ma Sandro non fa mica la diretta... Cioè, fa la diretta audio, però... Hai i diritti. Cioè, l'emittente Radio International paga per fare la diretta dallo stadio. Noi siamo in bolletta. Non possiamo fare niente. Fate una diretta con Sovrani. Ma l'abbiamo già fatta, Max, quella sera in cui l'abbiamo inserito a tradimento. Non è la nostra diretta. A letto praticamente che l'abbiamo... No, non è vero. Si stava guardando una partita, probabilmente. Puntate su Crociata, ci suggerisce Andrea. Vediamo. Crociata non ha giocato male ieri. No, molto bene. Anche se il primo tempo non è che avesse fatto tutto sto clamore, però... Però ci era proposto. Se non sbaglio, nel primo tempo comunque aveva fatto un tiro in porta e è stato bravo il portiere della Ternana. Dickman che verrà munito e salterà a Cittadella, dice Federico Andreotti. Hai ragione. Hai ragione. E io invece scommetto sul fatto che a Parma non si faccia munire e poi diventi decisivo. Anche Gianluca Gardi mi fa notare... Ho un certo fiuto. Ah, vabbè, ve lo dico già adesso così siamo a posto. Se Dickman non si fa squalificare col Parma e poi decisivo quanto Cittadella mi prendo. Non uno, ma due punti. Perché siete tutti dei miscredenti. Credevo che ti giocassi al mici perché volevi una prestazione buona. Sì, ma sinceramente non ha avuto un grande impatto. Vabbè, la Polli non risponde. Metteremo i commenti in differita. Ricordo a tutti anche una cosa. Che è il 23 di febbraio, quindi è ancora presto. Mancano ancora due settimane. Ma c'è la newsletter dello Spallino, se lo volete. Nel senso, cercatela. Due settimane fa è uscita l'intervista in esclusiva con Demba Tiam. Tanto mi è arrivata una mail di una persona che... Uno si è lamentata perché non scrivo ciao a tutti o a tutte. Metto l'asterisco all'inizio. E questo è una roba ridicola. Ma vabbè, che mi dice... Ah, dovresti intervistarlo adesso? Ti amo e grazie a quello che puoi immaginare. Avere lo saputo che sarebbe stato accantonato l'avrei intervistato un po' più tardi. Vabbè, comunque. I pronosti ce li abbiamo fatti. Niente, ci rivediamo. Non lo so, Leo, martedì, mercoledì, non lo so. Dobbiamo decidere. Decideremo. Lo annunceremo. Vi faremo sapere. Vi faremo sapere, come dicono, i colloqui di lavoro. Quindi per adesso, per oggi è tutto. Grazie a chi ci ha seguito in diretta. Da vero. Grazie a tutti quelli che hanno commentato. Grazie a chi ci seguirà. Voi fareste le dirette delle partite. E Max potremmo anche farle, ma non abbiamo i diritti per farle. Quindi non si pone il problema. Grazie a chi ci seguirà in differita su Facebook, su YouTube. O dal link che trovate sul sito tra mezz'ora. E niente, continuate a seguirci. Siamo grati a tutti voi. E ci sentiamo alla prossima. Ciao. Grazie a tutti. Buonanotte. Ciao.